spettacolo ci troviamo davanti a un arbusto che voglio dedicare agli amici toscani ecco qua guardate che bellezza che rumore uno spettacolo madonna togli il fratellino e questo è il fratellino complimenti tuo amico ok mentre questo questo bel edlis dedichiamo all'amico ragusano dedichiamo a luca perbacco un bel fungo ti sta dedicando duro spettacolo ok uno e là ce ne sono altri due facciamo di vedere uno e due complimenti di nuovo ok eccezionale abbiamo cambiato zona adesso siamo nelle guarce e i risultati cambiano uno l'hai visto? oh due e tre dopo tanta ricerca il primo ovulo della stagione è quasi ancora è anche chiuso una fungaia di neri il primo è qua guardate due tre quattro e cinque e allora ragazzi ci troviamo in una fungaia mostruosa in una fungaia di aereus mostruosi uno portiamo a sciupare due tre quattro e cinque sei ecco qua sette otto nove e dieci undici undici dodici e tredici non pensate che finita qui eh tredici quattordici quindici quindici no 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 chi giù da sotto un ovulo sedici diciasette diciotto diciannove venti per motivi di sicurezza non riprendo quello laggiù ventuno spettacolo spettacolo uno uno ragazzi scendere dalla macchina senza cesto mi porta a fortuna due spettacolo spettacolo c'erano altri due dov'erano 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 i chi li ho persi spettacolo 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 spettacolo